Luciano Vaccaro, presidente di Arezzo Multiservizi, ha rassegnato le sue dimissioni contenute in una lettera già nelle mani del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Venerdì si riunirà il CDA dell'azienda partecipata del comune di Arezzo che gestisce servizi cimiteriali. Le dimissioni di Vaccaro saranno effettive dopo l'approvazione dell'ultimo bilancio dell'azienda che dovrebbe avvenire entro la fine di marzo. Intanto però Ghinelli è libero di guardarsi intorno per scegliere il suo successore. Ho sempre detto che nel momento in cui mi fosse stato chiesto di rimettere nelle mani del sindaco il mio mandato lo avrei fatto e così è stato, ci dice Vaccaro, al telefono raggiunto dalla nostra redazione. Unica mia richiesta accordata è stata quella di arrivare all'approvazione del bilancio dell'azienda per terminare un lavoro iniziato da me. Stiamo lavorando per costruire un percorso virtuoso che porti alla nuova nomina. Ringrazio l'architetto Vaccaro perché correttamente, diligentemente ha portato a termine non l'intero mandato ma il mandato che comunque si chiude con l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del bilancio che è sulla sue spalle e la sua responsabilità e quindi lui provvederà poi a dimettersi e ci sarà un avvicendamento. Una nuova nomina attesa anche per la Casa Pia? Assolutamente sì, lì il discorso è più complesso perché è un intero consiglio da rinominare e non solo quello, anche la Liotti e anche il Tevening. Quindi è un momento di nomine e cercheremo di farle il più possibile contestualmente in modo da dirimere una volta per tutte la questione delle nomine e le partecipate del Comune di Arezzo. A breve. Brevissimo.